Buongiorno, sono Luca Ribani, sono il responsabile del progetto web della Zenus di Bologna, quindi un ente territoriale, quindi a contatto con i cittadini, con gli operatori concretamente tutti i giorni. La nostra esperienza è stata un'esperienza non facile perché quando abbiamo fatto la scelta di approdare un CMS, noi usiamo PLON, questo è stato frutto di grandi cruci e anche di momenti molto molto difficili dal punto di vista operativo. Il nostro modello, quello di cui vogliamo discutere oggi, è un modello molto centrato sulle risorse interne, quindi sulla formazione e l'utilizzo di redattori che sono professionisti e operatori all'interno dell'azienda. Questo modello ci ha portato a creare delle reti multiprofessionali in cui operano dal personale amministrativo ai medici ai veterinari a dirigenti delle diverse funzioni presenti all'interno della nostra organizzazione. Ulteriormente possiamo dire che il nostro accento è stato posto sulle conversazioni che questo tipo di rete ci consente di realizzare all'interno dell'azienda USL. Questi sono alcuni numeri perché la realizzazione passa anche attraverso questi aspetti di misurazione in cui le redazioni stesse sono fonti di notizie all'interno dell'organizzazione stessa, quindi le redazioni producono autonomamente informazioni che vengono rilanciate poi all'interno dell'organizzazione in modo autonomo. L'introduzione di piccoli strumenti, quali sono gli RSS però all'interno dell'internet, ha consentito di sviluppare questa capacità anche proprio da parte degli operatori di riuscire a intercettare informazioni di riferimento rispetto alle proprie professioni. Concretizziamo questi principi in documenti, noi abbiamo realizzato questo manifesto di redazioni che è articolato in questi punti che abbiamo sintetizzato e che proponiamo poi ai professionisti che intendono partecipare a questo progetto aprendo sezioni specifiche. Non solo, integrando ma anche dati esistenti, ad esempio nella nostra internet è possibile reperire tutte le informazioni dei professionisti rispetto alle modalità di erogazione delle prestazioni. Questo è l'aspetto positivo, non solo ma siamo riusciti, almeno speriamo, a riportare anche molochi intoccabili nella carta come le newsletter aziendali direttamente sul web mantenendo un buon target di accessi agli operatori. Ecco l'accento particolare è sulle misurazioni, noi produciamo un report annualmente su tutta l'attività della intranet e questo ci ha consentito dal punto di vista dell'esperienza di poter finalmente realizzare, dopo un percorso molto forte, alcune esperienze riutilizzando anche strumenti che sono forse considerati antiquati. Provocatoriamente noi diciamo che la mail è sempre mail 2.0, quando questo consente di dare risposte ai cittadini in maniera molto efficace e non provocando reclami. Utilizza anche gli strumenti forse un po' obsoleti come le radio, però la voce dei professionisti sul web è una voce molto sentita, una voce molto importante, i professionisti hanno necessità di utilizzare ed arrivare ai cittadini anche in questo modo. Di 15 giorni fa, l'ultima realizzazione, il sito nuovo della Zendus di Bologna che è stato realizzato sempre su piattaforma CMS, Plon, con lo stesso metodo delle redazioni allargate. Quindi questa è un po' la nostra idea, cioè cercare di creare un tavolo con altre pubbliche amministrazioni per verificare la possibilità di sviluppare ulteriormente il concetto di redazioni e il concetto di lavorare che ci ha portato poi appunto anche su Twitter, su Facebook e su Youtube con un canale aziendale dove ci potete trovare. Grazie. Grazie.